Siamo alla seconda parte del nostro programma, al focus, oggi dicevamo crisi del gas, crisi dell'energia elettrica e sanità. Quanto pesa questa crisi sugli ospedali, sulle strutture sanitarie che sono diverse dalle altre aziende? Allora, dottor Coriglioni, questi rincari stratosferici del gas metano, soprattutto, ma anche dell'elettricità, mettono a dura prova non solo aziende e famiglie, ma anche gli ospedali. Rispetto al 2019 si legge di aumenti fino al 1000% per il gas e del 260% per l'elettricità. Facciamo un esempio partendo dalla struttura che lei governa, la Salus, 100-120 posti letto, se ricordo bene, reparti, sale operatori, laboratori, servizi. Insomma, quanto si consuma qui mediamente e con quali costi? Guardi, io le ho portato a lei e ai nostri amici che ci seguono qualche numero per dare un'idea di quella che è una struttura media come la cassa di cura Salus di Battipaglia. Noi nel 2021 avevamo un consumo praticamente di 127 mila kWh mese con una spesa di circa 28 mila Euro. A luglio di quest'anno noi abbiamo grosso modo lo stesso consumo, invece di 127 mila sono 133 mila, quindi poca roba in più. L'importo passa da 28 mila Euro a 84 mila e 500 euro. Quindi l'impegno economico è pazzesco. Va anche considerato, giusto per dare un'idea anche ai cittadini per quello che riguarda i propri consumi, che per esempio mentre a luglio dell'anno scorso su quella bolletta pagavamo 5 mila Euro di IVA, adesso su questa ne paghiamo 15 mila. Quindi lo Stato comunque sia in cassa tre volte tanto per quello che riguarda le imposte sull'energia elettrica. Avete provato a ridurre, da quello che sento c'è stato solo un piccolo incremento, oppure razionalizzare questi consumi di gas e di elettricità? Come? Se lo avete fatto. Avete ipotizzato anche per esempio come fanno alcuni ospedali però molto grandi del nord a convertirvi con il fotovoltaico, con altre fondi rinnovabili. Ecco, quanto si può risparmiare senza apportare poi danni all'efficienza di una struttura ospedaliera? Insomma un ospedale non è certo, l'abbiamo detto, un'azienda come le altre. Esatto, il problema è proprio questo. In realtà innanzitutto il riferimento principale è ovviamente il paziente, ma il paziente è tutelato da una serie di norme. Tanto per fare un esempio sciocco, gli ospedali dovrebbero, sicuramente noi case di cura accreditate e private lo facciamo, mantenere per esempio una temperatura più o meno costante all'interno della struttura. Che temperatura c'è all'interno? Dovrebbero essere una temperatura tra i 24 e i 27. Cioè una temperatura, diciamo, di quelle per noi molto gradevoli. Esatto, quindi aria condizionata, un po' la finestratura, ma molto relativamente, ma prevalentemente aria condizionata. Le sale operatorie addirittura devono essere da 22 a scendere. Questi parametri, che sono parametri dovuti anche dalla norma, oltre che dal buonsenso, noi non possiamo incidere. Quindi il consumo di una struttura sanitaria chiaramente rimane sostanzialmente quello. Non è che uno può fare una TAC utilizzando meno energia elettrica o una radiografia utilizzando meno energia elettrica. Quindi i nostri consumi sostanzialmente... Non si può risparmiare, insomma. È impossibile. Non si può risparmiare. Si può provare a razionalizzare, spegniamo tutti quanti la luce nei nostri uffici prima, siamo attenti ai nostri computer, a queste cose, ma rispetto ai consumi che le ho letto prima sono ovviamente sciocchezze. Quello che si può fare, che diceva lei, poc'anzi e anche noi nel nostro piccolo ci stiamo pensando, è chiaramente le fonti alternative con le quali riteniamo che si possa risparmiare moltissimo. Lei sa meglio di me che ormai c'è una normativa direi abbondante sulle fonti alternative, però non così semplice da approcciare, ci siamo accorti. Noi purtroppo per esempio nei nostri spazi non siamo in grado di mettere per esempio pannelli che siano in grado di assicurarci il consumo giornaliero che noi abbiamo, che sono circa 180-220 kWh al giorno, fino a 318. Quindi dobbiamo trovare anche localizzazioni alternative. Ci stiamo provando, siamo anzi addirittura cercando di fare un progetto, siamo nella fase progettuale soltanto, lo voglio specificare, proprio che sarà completato proprio in questi giorni, anche agrivoltaico, cioè praticamente farlo su terreni agricoli dove pensiamo di produrre per quello che noi stessi consumiamo, quindi dare ai nostri leggenti quello che consumiamo in via autonoma. Avremmo vedere più avanti delle immagini che si definiscono proprio al tentativo ai progetti di fotovoltaico, con pannelli che sono al di sopra della copertura delle aree per parcheggi. Sì. Lo dovremmo vedere più avanti. Quella potrebbe essere, perché io se ben ricordo, la Salus di Battipari, come anche altri ospedali, hanno ampie zone per parcheggi auto, che possono essere tutte o parzialmente coperte e questa copertura potrebbe poi servire per ospitare i pannelli fotovoltaici, che diciamo tre pannelli, le dico subito perché io sono stato, sono interessato a cose del genere, però io voglio dire è sempre molto seccante, scioccante che un privato, un cittadino debba poi pensare a come arrovellarsi per mettere il fotovoltaico a casa. Io dico il fotovoltaico lo dovrebbe fare l'Enel, lo dovrebbe fare l'Eni, non noi cittadini e dovrebbero farlo poi le aziende pubbliche o quelle private, però le aziende insomma, ma non noi cittadini che dovremmo invece pagare di meno. Invece in Italia, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, in Italia si riesce a produrre con energie rinnovabili solo per il 22,5% del totale, che significa che noi siamo ultimi in Europa assieme a Cipro, Malta, Grecia e Belgio. Questi sono i paesi che secondo una statistica fatta da un'agenzia specializzata, è una sentenza brutta, spiacevole per l'Italia, che fa solo chiacchiere. I politici, voi politici, fate solo fumo e chiacchiere, ma fatti zero. Dopo tanti anni di parlare a vuoto, siamo fermi, siamo ultimi in Europa per produzione con le energie da fonti rinnovabili. Questa è la realtà. Ora, abbiamo visto già prima, ecco, quindi questa di coprire con pannelli fotovoltaici, una parte dei parcheggi, voi avete un'area grande, abbastanza grande, quindi diciamo tre pannelli, un kilowatt, diciamo che per arrivare probabilmente arriverete a coprire un 40-50%, però già potrebbe essere importante produrre il 50% dell'energia che consumate. Ma infatti lei ha assolutamente ragione, intanto è vero che noi abbiamo fatto uno studio su questo discorso, perché abbiamo questo parcheggio, come lei diceva, abbastanza ampio, soltanto che praticamente poi abbiamo rinunciato e le dico anche perché. E torniamo al discorso che faceva lei della politica e che facevo io prima della normativa confusa, perché teoricamente i pannelli fotovoltaici devono essere almeno a 300 metri dalle strade, per cui si riduce estremamente la parte che io posso attivamente utilizzare per mettere i pannelli, per cui arriverei al di sotto del 40% che diceva lei. Poi c'è da dire che quello che produrreste voi, teoricamente, andrebbe all'Enel. che poi dovrebbe scontarvi i costi. I discorsi per quello che io ho capito sono due, cioè se uno riesce a fare l'autoconsumo questo passaggio non c'è, nel senso che uno se lo consuma da solo autonomamente. Se invece, come noi stiamo progettando e pensando, i pannelli sono un po' più lontani dalla struttura, avviene quello che dice lei. Cioè dobbiamo usare le strutture dell'Enel e quindi pagare sicuramente le spese di trasporto energia elettrica, cosa che noi tutti i cittadini sulle nostre bollette, se ce l'andiamo a leggere... Vediamo che non paghiamo solo il consumo ma anche il trasporto e quindi noi potremmo cedere all'Enel quello che produciamo e l'Enel a sua volta, dove noi lo vogliamo utilizzare, ci porta il suo. Qui ci sarebbe ovviamente una differenza di prezzo perché quello che noi vendiamo a loro non sarà pari in termini di prezzo a quelli che loro vendono a noi. Quindi anche là ci sarà una piccola, chiamiamola così, speculazione, però ci dovrebbe essere un risparmio orientativo almeno del 40% rispetto ai prezzi odierni. Insomma, a questo ci dovremmo arrivare abbastanza facilmente. Speriamo di qui a poco di riuscire a realizzare perché pensiamo di fare una bella cosa interessante anche forse per la popolazione battipagliese. Adesso vediamo un po', ci stiamo dando da fare. Ecco, in conclusione un argomento che abbiamo discusso e di cui ci siamo occupati tante volte, però ci eravamo lasciati nell'ultimo incontro, in tutta l'intervista, con l'attesa di un confronto con la regione Campania per quanto riguarda i laboratori di analisi cliniche privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, che in Campania sono, attenzione, la stragrande maggioranza dei laboratori sono 700 su circa 820. Sono l'85%, cioè i privati che fanno analisi cliniche sono l'85% di tutti i laboratori di analisi cliniche in Campania. Quindi, diciamo, una parte preponderante, importante. Ecco, a che punto è questo confronto che riguardava appunto i famosi tetti di spesa, ma anche la calendarizzazione dei tetti di spesa, cioè che oggi è mensile, cioè ogni mese dei 12 si deve controllare il tetto di spesa, se si è superato i laboratori, cioè il pubblico, la regione non interviene più, cioè esaurito il tetto di spesa. E ovviamente quindi questo che cosa comporta? Che nei primi 5-6 giorni, la prima settimana del mese, c'è una grande fila per approfittare appunto delle convenzioni, cioè per pagare con il ticket nella sigla clinica, dopo la prima settimana si paga, insomma. E quindi noi, i cittadini, si crea una odiosa discriminazione tra chi ha e chi dispone di risorse e chi ne dispone di meno. E quindi c'è molta gente, onestamente, diciamocelo, è veramente una vergogna, che rinuncia a farsi le analisi perché non può pagarsi 100, 200, 300 euro di analisi particolari. Ecco, a che punto è questo confronto, dottor Coglioni? Ricordiamolo anche su quali punti controversi? Dunque, in realtà il punto dove eravamo prima, cioè in tutto questo tempo non è accaduto nulla, se non il fatto che questo tetto di spesa, a cui lei accennava prima, è stato leggermente, ma veramente leggermente, aumentato. Proprio sono cifre in realtà irrisorie. Il punto fondamentale era quello che lei ha toccato prima, era questo discorso della mensilizzazione del tetto di spesa, quindi lei ha detto benissimo, cioè il tetto che ci viene assegnato ad anno viene diviso per dodicesimi, cioè per mese, ogni mese, ogni nostra struttura, laboratorio, radiologia, eccetera, ha il suo tetto e quindi deve rispettare quel tetto. Raggiunto il tetto deve fermarsi e fare solo prestazioni private e come lei giustamente diceva, purtroppo il cittadino deve mettere mano alla tasca e quindi pagare, magari con qualche sconticino o con qualche cosa, però pagare la prestazione. Quindi si crea all'inizio del mese una cosa molto antipatica per il cittadino, ma complicata anche per le imprese, che ovviamente i cittadini corrono per paura che nel mese di settembre possano finire tutte le prestazioni, tutto il tetto di settembre e quindi rimanere senza, per ricominciare poi. Oggi 9, quindi è possibile che si siano già esauriti? Certo, mi permetta una battuta, io sono rimasto molto meravigliato del fatto che il Presidente De Luca, consigliato non so da chi, abbia fatto questa scelta, non solo, ma se la prenda con le strutture accreditate per dire che noi finiamo le prestazioni presto. Innanzitutto voglio dire, in Regione ci dovrebbe essere qualcuno che sa fare una divisione, una moltiplicazione. Se lo stesso Presidente dice che prima le prestazioni finivano a settembre, significa che coprivamo i 9,12. Quindi trasportato a mese vuol dire che a mese io arrivo al 20 del mese. Questo quando la calendarizzazione era per anno. Quando la calendarizzazione era per anno si finiva a settembre. Se la trasportiamo a mese vuol dire che io ogni mese arrivo al massimo al 20. La gente chiaramente da un punto di vista psicologico si agita e quindi invece del 20 arriviamo se no al 10, al 15, a quello che è. Mi sembra un discorso così naturale da capire che non capisco perché il Presidente De Luca si arrabbi su questo discorso minacci, chissà quali guardie di finanza c'è. Ma io credo che forse qualcuno in Regione dovrebbe imparare un po' di aritmetica, non di matematica, ma un po' di aritmetica e coi numeri si può anche sbagliare, ma fino a un certo punto. La verità vera è che la Regione Campania non ha mai fatto il cosiddetto controllo e verifica del fabbisogno, quindi noi non sappiamo ai cittadini quanti prestazioni servono. Questo è. Poi su tutte le strutture specialmente pubbliche, e qua mi permetta una precisazione, manca il controllo. Il problema numerico delle strutture è relativo perché nell'ambito del privato esistono ancora, anche se ormai sono aggregati, una serie di strutture piccolissime, mentre nel pubblico ci sono strutture grandi. Il problema è che queste strutture grandi che sono nel pubblico non espritano tutta la loro potenzialità per dare prestazioni ai cittadini. Ma tu Regione non te la puoi prendere come privato che io faccio il mio lavoro e il mio mestiere. Da buon imprenditore devi andare a verificare come mai la tua struttura non funziona. Se Aldo Primicerio fa 100 e io Ottavio faccio 10, io Ottavio mi dovrei chiedere come mai Aldo riesce a fare tanto e io non ci riesco, dove sbaglio, qual è il mio problema. Non andare a dire a Aldo guarda che tu da domani mattina invece di fare 100 fai 50 perché devo lavorare pure io, non si agisce così. Insomma, la Regione Campania vince sempre il 5. 5 per intendere, per fare una battuta, cioè l'assessore 5 alla sanità. Ecco, De Luca che io ho detto sempre... Che è un ottimo economista ma probabilmente come assessore deve assolutamente intervenire e diciamo, come dire, compensare queste varie esigenze. Basterebbe poco, io credo. Ci vuole la politica in questo caso. Assolutamente sì. De Luca è un politico abile, deve riuscire a sintetizzare, ecco a fare una sintesi di queste esigenze, ma anche perché no, facendo uso dell'aritmetica più facile, più semplice. Sì, bene. Dottor, io credo che basterebbe poco, basterebbe incontrarsi, stabilire una sanità, veramente potremmo dare ai nostri cittadini una sanità di qualità, come diceva tre anni fa, forse se ne è dimenticato, il Presidente De Luca.